sapete? Sì, la mamma dice che è un disastro Mamma! Abbiamo comprato tutti i frutti! Quello è il migliore! C'è certo il canale di Nikita, oggi noi abbiamo Skiddle, che mia mamma è arrabbiata perché ne avevo scelto io come premio e lei non gli piaceva No! Sì! È un bruttissimo gioco! È un bellissimo gioco! Allora fammi vedere cosa c'è di bello con questo gioco Tu non lo capisci questo gioco, è una meraviglia! Si può anche gonfiare! Ma come si può giocare con questa cosa qua? Cosa fai? Lo tocchi e basta? Si può fare qualcosa con questa cosa qua? Sì, ma certo è bellissimo! Questa cos'è? È oro! È oro questa qua, vediamo? C'è lo scritto che sono profumati Come ami tu! Questo qua lo devi subito ammusare! Allora ricorda questo, questo cioccolato! Bello! Mi sembra un sapone! Ups! Dai, chiudiamo! In effetti Skifedo è un nome giusto! È adatto! Ha un gusto di detersivo! Allora ho ragione che non è un bel gioco! Sì che è bello! Vediamo che cosa c'è! Guarda che brillantini! Io apro celegia, vediamo cosa c'è! Io ho preso tutti i frutti, il più bello, il più buono! Tutti i frutti questa qua! Si! È vero? Che buon odore! Ha un gusto di spray da mettere nei bagni! La mia sarebbe arancia! Prova a sentire! Giustissimo! È buonissimo! È proprio buono! Ecco questo qua! È come i detersivi del vate! Poi lavatemi le mani! Detersivi del vate! Poi dovete lavare le mani! E Nikita? Non mettere le mani in bocca! E non mangiarlo! Abbiamo comprato un po' di schifezzi, mi sa! Tu non capisci come sono belli? Non capisco! Non capisco niente! Io apro l'ultima! Nooo! È al mio gusto preferito! Vediamo, vediamo! Questo si è attaccato! Wow! Tanti brillantini! Molto utile! Vediamo! Io provo a fare quelle formine di Play Doh! Ma che buona! Senti! Ma è buonissimo! Ma è schifissimo! Ma! Guarda! Pizza! Pizza! Wow! Proviamo! Si sta divertendo la mamma alla fine! Guarda! Non si scoppia! Non si scoppia! Questo blu cos'è Nikita? E' un fantasma dei Ghostbusters! Un fantasma di occhi! Un fantasma tipo Ghostbuster! E questo qua è una faccia di una mummia! E questo qua ci provo! Ah! Questo qua! Guarda chi è! Occhi qua! Guarda! Ragazzi! Perché non lo mischiamo? No! Chissà che delizia! Delizia! Mischiamo! Questo è un vero! Posso mischiare? Guarda! Questo è schifido un vero! Mi lasciate mischiare! Qua! Eh! Che supercappola! Posso mischiare? Vai! Mischia! Yeah! Sì! Chissà adesso! Un nome vero e giusto! Per questo gioco! C'è un canale di sito! Mettete un like! Iscrivetevi! Tutti i canali di sito! Iiii! Pappa buona!